Tutti quanti che sono qui siamo lavoratori stagionali. Loro guadagnare da noi decine di milioni di euro. Anche diciamo centinaia di milioni di euro da noi, da questo ghetto. E dopo quando finisci il lavoro basta, loro buttano a noi così. Noi sono umani, dobbiamo vivere così. Grazie a tutti.